Il Cinema Romano ha ospitato l'anteprima del film Il mio domani di Marina Spada per la rassegna di diritto e di rovescio proposta dalla consulta femminile regionale in collaborazione con Ajace. Prossimi appuntamenti martedì 12 novembre con il film Il primo incarico di Giorgia Cecere e il 26 novembre con Viaggio sola di Maria Sole Tognazzi.